Brutale 1000RR, vera novità di MV Agusta, motocicletta destinata a confermare il successo di tutti i modelli precedenti e lo fa devo dire con una versione delit sicuramente, abbiamo ereditato alcuni elementi dalla serie oro abbiamo sospensioni All-Inz però di diversa fattura perché troveremo all'anteriore una Nix A30 e un Smart EC per quanto riguarda la mola posteriore, tutto il complesso posteriore, fantastica 208 CV, c'è stato bisogno di aggiungere delle alette laterali che ormai non è una questione di moda ma qui è veramente per tenere l'anteriore di queste motociclette ben piantato a terra altrimenti queste potrebbero anche decollare con le potenze e con le leggerezze che hanno parliamo di 186 kg di peso a secco quindi immaginate un po' il rapporto peso-potenza di quanto è oltre l'uno bellissima anche la versione giallonera in realtà quella che insomma a me piace di più anche se i colori di MV Agusta sono ovviamente il rosso e anche il bianco fantastico, scarico Arro 4-4-4 che non è un modulo calcistico anche perché non si gioca in 12 al calcio ma è semplicemente il sistema di impianto di scarico della brutale RR immagini anche per la Superveloce un'altra moto che ha avuto un grande successo di attenzione, di pubblico è arrivata l'anno scorso, lo ricordo stiamo anche consegnando diversi modelli per quelli che sappiamo motore F3 derivato dalla F3 con 150 CV il 798 cm³ ed è una bellezza sconvolgente questa motoceletta perché sposa tecnologia futuro e prestazioni a una linea diciamo retro che però tanto retro non è perché guardare che soluzioni con il faro l'aletta anche su plexiglass sicuramente avveniristica pur conservando una linea complessiva che guarda sicuramente alle moto sportive di un'altra epoca anche qui abbiamo elementi importanti che vanno ad arricchire questa sportiva di tutto fatto che si va a unire alla gamma delle super sportive di MV è il primo anno senza i Castiglioni ad EIC ma qualcuno ce lo faceva notare però non manca la presenza dell'immagine che è un'immagine enorme di Claudio Castiglioni con la sua F4 che ci fa ricordare quello che è stato quest'uomo per il motociclismo italiano